Questa è la prima lezione dedicata alla pittura gotica. Da qui capiremo quali sono le innovazioni che caratterizzano la pittura in questo periodo e inizieremo a studiare degli artisti che fanno proprie queste innovazioni e che appunto porteranno poi l'arte a cambiare nel tempo e ad arrivare a quelle estreme conseguenze che porteranno poi nel rinascimento a un totale cambiamento dell'arte stessa. Allora, c'è da fare una doverosa premessa. Bisogna parlare della tecnica perché appunto per quanto riguarda questo periodo appunto dell'arte gotica si incomincia ad utilizzare la tecnica della pittura su tavola. È una tecnica che verrà utilizzata a lungo poi durante tutta la storia dell'arte, che verrà poi sostituita dalla tela e poi successivamente dall'olio al posto della tempera, ma si configura come un'innovazione propria di questo periodo. Allora, innanzitutto dobbiamo parlare dei temi, cioè quali sono i temi maggiormente sviluppati in pittura tra 200 e 300. Allora, siamo di fronte innanzitutto a delle croci dipinte, alle madonne in trono le cosiddette maestà, che poi vedremo appunto realizzate da vari artisti, e le cosiddette pale ageografiche. Le pale ageografiche sono delle pale che raffigurano un santo con dei riquadri in cui è raffigurata la sua vita. Nel 300 invece il genere maggiormente utilizzato sarà quello del politico, dove tendenzialmente c'era nel riquadro centrale la madonna con il bambino, e nei pannelli laterali dei santi, quindi solitamente questo. Ma pian piano appunto vedremo quali sono questi temi. Allora, innanzitutto la tecnica. Quando parliamo di pittura su tavola parliamo di una tecnica molto complessa, in quanto il legno, di fatto, come scrivo qui nella diapositiva, è un materiale vivo. Cioè tende a, innanzitutto, reagire per esempio all'umiltà, al calore, e quindi di conseguenza crea delle problematiche quando si viene utilizzato in pittura. E anche i materiali stessi che vengono poi utilizzati per dipingere, quindi la colla, i pigmenti animali, leganti, tendono appunto a reagire anche in questo caso con calore e umidità. Quindi di conseguenza la tecnica della tempera su tavola risulta essere abbastanza poco resistente. Però di fatto ci sono delle fasi di realizzazione che fanno sì che si possa conservare nel tempo anche un'opera di pittura su tavola, appunto grazie a dei piccoli accorgimenti. Allora, innanzitutto la prima fase prevede la scelta del legno. Il legno doveva essere stagionato, cioè doveva avere delle caratteristiche particolari, ma soprattutto doveva essere non fresco. Quindi di conseguenza si utilizzava soprattutto il legno di pioppo, che aveva queste caratteristiche, e questo consentiva di avere stabilità nel supporto. Poi, una volta che si era scelto il legno, bisognava tagliare agli stelli, in assi, questo legno, che poi dovevano essere assemblate. Assemblate o incastrate con dei pioli di legno, oppure incollate. Quindi di conseguenza anche questo dover separare le tavole, rincollarle, generava delle problematiche particolari. Poi bisognava preparare il supporto. Ovviamente per supporto si intende quello strato su cui poi si andava a dipingere. Quindi veniva stesa su di esso una preparazione di gesso e di colla, e appunto questa superficie doveva essere poi levigata in modo tale da risultare il più liscia possibile, e anche il più uniforme possibile, e grazie appunto alla sua uniformità si poteva poi iniziare a dipingere. Ora, la prima cosa che si faceva prima di dipingere effettivamente era dorare il fondo, cioè venivano delineate le sagome dei soggetti che dovevano essere presenti nella tavola, sulla tavola, poi dopodiché nelle parti rimanenti veniva incollata la foglia d'oro, che veniva incollata tramite un materiale argilloso che appunto consentiva di attaccare la foglia sul supporto. Alla fine, dopo questo passaggio, si passava alla stesura del colore. Si faceva prima il disegno preparatorio, e poi appunto utilizzando la tempera all'uovo si iniziava a dipingere. Diciamo, la tempera all'uovo verrà utilizzata soprattutto nel 200 e nel 300, perché poi nel 400 si passerà alla pittura d'olio, quindi ci sarà proprio un cambiamento nella tecnica. Quindi queste, diciamo, sono le parti fondamentali, le fasi fondamentali di realizzazione di una tempera su tavola. Quindi iniziamo da questo.